La mamma chiede a te Ciao Ciao schöne Cloud Ciao 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 Vabbè, quando torno metti la chiave con la posta. Ciao, ciao. Non si però muovi tu questo posto perché io ho già preso le mani. Si, si mette le mani. Guarda, guarda, guarda il controllo. Si, ma non è che devi muoverlo ogni vento, basta che se hai l'azione là, lascialo così, se no, continua a muoversi. Comunque c'ha ragione la mamma, credo sono statica. La mani chi? Ma quello che... Stai perdendo? È vero quel pozzuolo. Fortissimo il pozzuolo. Vero che non abbia una giornata. No, è giusto, è giusto. Tu lo sai perché sei a Cremona, anche se hai la Cremona. Infatti il pozzuolo è primo. Dai, ciubi. Era lo scontroldato. Si, si. Ma era il sotto di uno. Osti? Si, si, il sebi la tieni con il sebi. Ma che fascia c'ha il sebi? Una fascia del cazzo. Quella cosa c'era... Non quella con il tipo del capitano. Non ciò. No, ma non ciò. Ma che cosa c'era? Insomma, il telefono non è che mi viene aiutato. In giocano 4 e libero. Cioè il 5 di teni non gioco. Gioca 20 metri di iutro. Grazie. Perchè non hai portato il guantino? Non c'hai messato? No. Ma dovevi restire con Giulio oggi? No. Ieri sera cosa hai fatto? Niente. In depressione totale. Da solo? Sì. Ma ieri ho visto fatto di faccia. C'hai già? Sì, sì. Perché il bacio esco esco benissimo. Non ce l'avevo voglia. No, ero in depressione. Perchè? Ah, dopo la partita. Guarda come siamo indietro. Qua. Giorgio, perdiamo così. Non riesco a tutti. Non riesco a tutti. Non riesco a tutti. Dai lunga, su. Non, vieni così sto tocando. Dai Roma e torni. Ah, non passa mai nessuno. Dai, Giulio. Alla prossimo, dai ancora, dai. Mi faccio molto male. Sì, non vedo che cosa. Sì. Ma io non so se lo voglia. La vedo per il suo. Sì. Sì. È un duro quel guantino senza termica. Sì. È un duro. È un duro. Tu. È un duro. 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 I questi sembrano un po' chiudotosi La settimana scorsa Sì, la settimana scorsa erano veramente Te dove eri a compretto No, col crema Salimi, salire La domenica scorsa dove eri? A Bologna No, quando c'era il crema era a Bologna Mamma mia, carissimo Bella, stessi Salmi Sì, c'è 140 E c'è 17 Nicodai, su Bologna 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 Grazie a tutti. 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 Ma ieri erano scarichi tutti. Solo Luca ce ne mette sempre. Luca era casato. Ma Luca è sempre così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spingi, 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 spingi. Buono. Buono. Ma il balda corre Che non ci vuole la mano Cosa? Si Fortissimo Senti, ti ricordi quello che si chiamava shift-eye qualcosa nel rivoltà l'anno scorso? No Gioca dall'ora del Capocalloniere Mi sembra Cosa che fa? Gioca dall'ora del Capocalloniere Il Capocalloniere Il Capocalloniere San Giuliano e Svias 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 Ma comunque Giocare qua è un po' Un po' Guarda come arriva la sorpresa Guarda che c'è la barba Che c'è la barba Si Quindi se rimbalza lì Che c'è la salita Si Ma dove? Per i portieri Anche prima mentre si riscaldavano Dai ragazzi Siamo da sta Si 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 Ma ora è l'unico allenatore che si veste meglio per le partite Ma infatti io non l'ho appoggiata C'è una rappresentanza bella serena Non viene mai rappresentanza Anche l'anno scorso C'è una foto a pianengo mentre corri che è tutto chitta Si si lo so ma siamo al giro dell'altro Siamo a meno cinque dalla prima però arriva un grande acquisto a gennaio Allora 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 Abbiamo sbagliato tutta la cosa Erano tutti carichi perché l'anno scorso dove Vento il campionato l'ultima giornata Cioè i matti tirano quelli fuori che ci insultavano, quelli dentro che ci melavano. Quelli eravano tutto la prima di campionato, li mandavano giocare alla sera. Sì, ma siamo interessi proprio con la testa sbagliata. Viglio, Matti, viglio. Tiri, stai cacciando di quelle urla in sbagliatoio. Io? Eh. C'è anche tu dentro. Sì. Secondo te è stato efficace? Cioè non è servito un classico? Oh, un classico. Boh, 4-3 nel secondo tempo non deve essere andata così male. Sì, ma non so che il fatto che io abbia parlato avremmo influenzato qualcosa. Sì, più sicuramente delle parole del mister. Ah, guarda, non ho parlato. Bella classico, bella classico. Sì, fino in fondo, non porti, non porti. Mettile in mezzo. Va bene, Matti. Sai cosa? Non è facile tenere la testa giusta perché pensi, vabbè, è facile, perché hanno tanto più di male. Sì, ma di sì. Boh, secondo me noi nel campionato del Cava, noi con la squadra dell'anno scorso arriveranno con la fine qua. Come cosa? Con la squadra dell'anno scorso nel campionato di festa. No, buono. Eh? Mauro è bravo, c'è la per carità. Mauro? La tensione alta, sì. Esatto. Mauro, cioè... Mauro, lui, a parte fare le scelte giuste, lui sa... Cioè, a differenza di tanti allenatori, crea il gruppo, quindi c'è sempre ben accetti. Esatto. E poi anche quando devi giocare le partite di Mert ti mette sempre l'obiettivo, un qualcosa, un'altra persona. Bravo, Luca! Stava a mezzo metro in quale. Adesso segni. Eh, che non lo vado. Sì, il portiere c'è nemmeno. Però rischia di passare. Sì, ma già, quali gradino fanno questo? No, sì, ma sì. Sì, ma no, sto primo all'olio e non ci sono un bel rischio. Ma qualche cosa devono avere un bacino di utenze di ragazzi per giocare, perché ci saranno 10.000 persone che abitano a Battro. Ma solo nei palazzoni... Sì. Fica, mette soggezione giocare davanti a tutti stessi. Fica, se non te la guarderesti la partita per il balcone? Io sì, Fica. Ah, sì. Guarda che tiene un porto. Ma certo che tiene un porto. Allora, il porto fuori! Sì. Bravo, Luca! Lo sapevo, io si chiede. Oh, messo bene subito. Sì, però noi segniamo di calcio piazzato. Cioè, difficili che... Allora, vabbè, intanto iniziamo a segnare. Una a zero. Questa qua fa... Stai andando finalmente la parte di studio. Buono. Bello sta condizione. Mi tiene un po' buono per me. Te l'avevo dichiarato prima che tirassi. E là. Ma ci sei. Cosa fa? Lei ha deciso che basta. Non so perdere tempo. Eh, sì. Beh, di testa. Oh, il crema comunque è forte solo quando gioca con le altre. Con noi sembrava dei moboli. Davvero? Sì, sì. Ma chi è questo qua? Non credo mai. Cioè, fino a farlo. Sì, ma... Sì, sì. Se no... Bravo, Leo. Per dovere di cronocerare Sì ma potrebbero rifare il fondo Ma dici che si sente tutto? Certo Tutte le stronzette di stremo si sentono Anche se insulti gioco Non insultare con il Cristo Non insultare Cristo Perché si riguardano la partitura degli alieni Ah perché su Youtube la vedo pure Tagliamo sta parte Senza ausa Eh vabbè però devi vedere anche un carri lancio Beh no in realtà Da qua sembra piccolo però è bello grosso Devi non esagerarsi Clamorosi Se vai sull'area grande ti arrivi in un'area dall'altra parte Su l'area 5 sicuramente Sì Anche se si era rotto il piede L'anno scorso da quando con un'uscita Ha tirato un calcio delicato sui tattetti di un'altra Si è spaccato il secondo e il terzo Eh ma il Valda Deva rimarci Bravo Leo Leo solido Valda non ne tiene mezza Occhio che ti sente Sì Luca 18 minuti Minchia se mi è passato nell'internità No Però 25 Poi quando Sì Mi fa cagare anche il cartello Ho trovato un'immagine Sì Quindi era freddo Forse perché aveva raffinanzato la macchina Ma ci va fintare E era ghiacciata Dov'è? Dov'è? È dietro gli spogliatoi Se mi dici così mi so che salta anche il caffè O a meno che adesso si è scaldata la... Non rischiamo È che non c'erano quelli che dici Secondo il ginseng almeno sai che era ma che era tutto fatto Siamo più forniti all'oratorio Siamo più forniti Beh, ora stavi d'embriano Tanta roba Tanta roba E certo Ti sa nel barista Stai tenendoci tutto Ma sì Sì, è che oggi Sì, era che buona Ma per cosa? Andate fu E salite Vieni su Non tenetele nel gioco Profilto tutto il gioco Salite Possiamo appuntarlo Stiamo qua Stiamo qua Stiamo qua Siamo qua Ragazzi con canno Giuri Doppia calza Io avevo pensato alla doppia calza Poi dì ho messo anche di calza Eh io no Mi sembrava eccessivo Eh no Ma il sensomal è un nuovo se finisci come ricevo perché sei sul pango ancora più gol nel lato 5 euro sono entrati da fa pagare 5 euro ricevo 5 per stare in piedi sul pago a parlare con Spolens con il prezzo non c'è Spolens vabbè regionali ci sta però 5 euro in quel modo non mi sembra una grande idea non ci sono molti servizi c'è Crema che fa pagare beh però ci si può dai Mau Mau e Totò bravo Sebi bravo Sebi ohè santo lo santo sì che lo santo certo che lo santo grazie 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 muro 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 solo muro solo muro muro Sì, sono contenta se perdono perché pensano sempre di essere dei campioni e spero la settimana prossima perché ci mancano bene. Cos'è per i giochi? C'è già, mi viene a dire che Calvairate era forte, però non ho detto che Calvairate va bene, avranno fatto papà, eccetera, però era veramente forte. Mauro mi ha detto che secondo lui potevamo vincere. No, vincere no, provo a giocarcela. Sai cos'è, era sintetico, molto molto forte, molto stretto, più piccolo del mio cincenco, ma sintetico. Quando andavano, loro erano molto dolorosi. Non stai con l'aria, non stai con l'aria, non stai con l'aria. Sono sintetico da un altro sport. Ma credito! Sì, era quasi più calcetto, perché il mio cincenco era veramente bello. Dovete torsù, non vanno indietro. Su dalla metà campo, non è che posso non andare tanto. Nessimo! Bravo, dai, adesso! Sì, sì, ma sono tutti finiti. Guarda come corre il ball da gol. Che buona, non è pericolo! Va a fare la materazza. Allora, posso essere l'attore? Dai, Landu. Gioca! Bravo! Guarda, guarda che controllo. Vai, Sì. Vai, Sì. Spondamento di Chuby. Marcia! Oh! Registrazione un po' complicata. Salite, veloci! Tutte lì, va! Veloci! C'è, non è veloci. Su, forza! Sì, ma la prossima era a Milano e con il Crema. Sì, non è se vincere. Non è che possiamo. No, forse sì. Dai, Landu. Sì, con la serie cinese vinciamo. Ma aspetta, guarda che... Sono io, da favore. Ma no. Signore grande. Bravo, Valda. Di là, di là, Landu. Di là! No, non calciai. Non l'ha visto. C'era Malda solo, completamente. Eh, vabbè, ma era difficile, era girato sugli spalli. Uiui, che football! Ma il ballo calamagosi, signora. Vai, Mico! Mico Gonzales. Che giocatore! Tu mi cacciai anche il panso. Sì. Sì. Fatto, like. Stai giocando un po' super forza. Mi recuperi, tu vinci? Non lo so. Non so con chi gioca. Con Benny, eh, Benny, vengo con quello. Che aspetta. Ecco, già provi del tre e mezzo. Tre e mezzo? Bello. Scamacca senza voto. Via. Speriamo che casa... Non gioca a casa, dai, guarda. Non gioca? No. No. Spero. Elma si fa anche a soli. Mi ha fatto mora in porca? Mi ha fatto mora in porca? Mi ha fatto mora in porca? Bella madonna. Bella, mora. È una bella saracca. Ma ti piace? Il faccio, ti piace? Allora. Così, così. C'ha i suoi lampi buoni, i suoi lampi... Cioè, non lo so. Però già che sei col destino e col sinistro è un luogo. Cioè... Stava volando? No. Oggi che vai, lui? Viaggio, viaggio. Gira, 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 gira. Mi gira ancora più. Bravissimo. Tu ci sei da buona. Vai da Andre, rientro, Andre. Perfetto. No, allora, se metto la faccia sullo schermo, si vede bene. Sai che si vede bene? Che dici? Eh no, perché l'ho stato fatto così. Così è dritto perfetto. C'è la bolla. Certo. Certo. Tutti dietro. Figa però, grazie a play, i metti, i metti anni, i porti. C'è una bolla tromba. Bello. Figa, Ux si è spogliato da sotto. È caliente. Dai, Landu. Giorgio al contrario. No, perché non pensavo adesso. Questo è bene. Fatto bene, fatto bene, giusto. Fanno ben speso. Bravo, Leo. Niente cartellini. Ah, giusto, giusto. Niente cartellini. Bezza, si va andare. Bezza, si va andare. Fanno la mia. 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 Cremo, quattro, il bambino. Il Santillano vince con il Louisiana solidi, ne? Quando l'ho vista la Luciano mi sembravano veramente dei gatti. Sì? Sì, erano veramente scatti. Ma sai che forse c'era un chiove della Luciano? No, no. No, allora non c'era. No, sì. Ma qua guarda si sta staccando la... No, 0-0 la Luciano sta staccando. Ma ora c'è che c'era. Fallo con la morosiglia. No, scusa, parateli stessi. Vai, vai! Vai, non ti fermare! Vai! Vai ragazzi! Tanta paura, tanta paura. Sì. 1-0 pulito scusa. Dai, andiamo a casa. 1-0 va bene. All Max. Io ho All Max. Certo. Sono... Ho mangiato anche ieri sera. Tu c'hai le offerte? Eh non so, non so se te l'ho ieri sera. Fa vedere? Dai, andrei, andrei! Devi cercare rapidamente Luca rilanci. Rapido! Ehi, andrei! Oh, bello stacco di testa. Bello stacco di testa. Sei buono. Testa, direttore devi fermarmi pure qui. Oh, sì. Ma gliel'hanno detto. Ci sono... No, il momento dei si iniziano... 3-4 giorni. 3-4 giorni. Tagliere ufficiale. Figa provvedere. Si sta aggiornando. Perché non ho messo scelte io qua? Che hai messo? Per vedere. Quella salina. C'è solo che c'è la cabaretta. Eh, lo so. Minchia zio qua. Ma che offerte? Questo. Tu usi quella? Questo. Io voglio quella. Vabbè. Ma zio, ma a te che off hai? Eh, è figa. Allora, vado tutti i giorni e ci mancherebbe non mi dessero le offerte buone. Ma che off quella? Sì. Zio, poi io ho appena riscaricato Glove. Quindi ho 4 euro di sconto più la consegna a casa. Sì. Ottima. Mi pago una bella pizza 4 euro. Sorda. Cooling break. Cooling break. Perché fa caldo, non bisogna... Chi è che si è fatto male? Balda? No, mamma. Dicola, ragazzi. 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 Poi c'entro campisti tutti da soli, comunque. St'apertura è quella che non l'abbiamo fatto noi ieri neanche una volta. Foto, foto! 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 Ui! Solido. Oh, è stato buono qui. Vai, vai. Bravo. Bravo. Bello. Che arriva, che arriva, che arriva. Che arriva, che arriva. Che arriva, che arriva. Ostia, non tiragli i calci, però. Buttala in mezzo, spate. Di mancino? E là. Cosa fa? Guarda, il vaso dice che si pensa a lui. Su! Su! Ostia! Controlli a venti metri tutte le volte. Sì. 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 Sì, siedila. Eh! Sì, la martella. Su! Venite su! Forte, forte. Sì. 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 Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo! Andiamo! Sì. Salto Luca, salto! Si chiama Luca, in casa non lo v соответsibibilità. hai capito in caso non l'avessi capito ok non so che mi schiava il 5 no ma qua è una tribuna ospite cioè nel senso qua è la parte ospite qua si è tutto mischiato allora nel senso qua c'è questo qui è la sua barra ma scusate perché ci avete un euro perché noi siamo giorni perlomeno non ha nemmeno insistito è andato al parchetto a farsi le sue siringhe secondo te si muove i cannoni con i potenziali i cannoni con i vecchi ma che è andata a riportare il vetto mica sotto il vetto mica sotto bravo spate ma ce l'hai solo ma perché sta cagando perché l'andio è un drago ma perché sta cagando c'era solo ciupi 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 ehi 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 solo non devi chiamarlo gli altri stick Si Leo, te lo mando Forte grassivo Ma Mau quanto corre? Mauva fortissimo Guardi, sei in tasca o grazie Va dai, vanno a giocare Fallo corretto Era fallo, veramente fallo Se l'hai cercato, come era fallo? Se sei un secondo te quanto fa io? Secondo me se sei 1-0 per l'Inter Secondo me non perdiamo Scalate! Scalate! Se ci dovesse dire un risultato fisico Non c'è qualcosa di chiede Un contropiede Porca puttana, cos'è sta uscita? Fatta crederci però Matteo di cazzo Dai, dai, su, ragazzi Questa è rimessa da rifare, dottore Converso Tu non lo fai, credo mia Devo prendersi Dai andrei piedi, eh! Vado a fare il talk di medicina Vado a fare il talk di medicina Vado a fare il talk di medicina Cos'è? Il talk di medicina Cos'è? Il talk di medicina E poi pensavo... Ti stavo dicendo quali faccio E poi economia... Volevo provare psicologia Però psicologia non c'è il talk di medicina Lo fa anche l'altro tipo Che pena di fare È proprio brutto Con un mal da trasferta Eh? Con un mal da trasferta Vabbè, un a zero solido No, un a zero e io ci fermo Eh? Si scarsi, scarsi Si scarsi, scarsi La perseveranza ci porterà alla vittoria del Campionale Nostro? Eh? Ah beh Tu sei stato perseverante con Giulia Alla casa Non sei perseverante con noi No, però Calma, calma Secondo te cos'è il modulo, la voglia Boh, non lo so La voglia Il mister Il mister no Non ce ne mette mai nessuno In negativo, in positivo o no? Eh lo so Nessuno mi tratta nessuno 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 Ma il 10 gioca davvero? No 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 Che qualità eccessiva forse No No È forte Allora 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 Comunicazione Manca la comunicazione Massimo Massimo Da rifare direttore Tutte le sbagli Tutte Leo Ma che anticipo che la morte Leo li fa sempre Cioè dai io non ci sfida Ma perché Luca E' bello E' bello di dirlo qua Bello fuori 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 Sì c'è un po' che c'è un po' che c'è Oh! No Se fosse una giocata di Landy E' bello E vabbè Sarà per la prossima E' bello di domenica Tadani non lo sai perché c'era un bar che c'era proprio si, tutte le volte che chiamava uno doveva prendere l'Alanthus, cioè quando lo prendeva gli diceva ho un gintone anche quest'ora? si, così mi scaldo un po' mio papà l'anno scorso quando iniziava a venire in vano si portava il Vimbrulé dove? come le partite ma dopo il sere ma dopo il sere ma dopo il sere sta caldo e tava bisogna dire a Lori di portare un po' del terro al palo fighe che l'hai tornato nel Vimbrulé colpato figa 10 litri mi facevo sostituire prima per andare a uno spogliettoglio con te a bere figa con lo zega ti ricordi che luxo lì che era ma non giocavamo sempre, vincivamo sempre, avevo problemi ma battilo in mezzo bambè eh? battilo in mezzo no dai spanno di loro scherminale si ma è già lì non so questo era fuori gioco colpato no c'era quello sul palo colpato colpato lì su certo che prendi gol da calcio d'angolo ha proprio ragione ma non c'è problema è proprio una cagata perchè c'è tu è una pala da fermo prendi gol capito? meno male che noi lo prendiamo questo mettilo bene? stia un po' troppo bella non male dai timone tu comunque quest'anno non le vinciamo neanche con le mani per uno scontro diretto solo con l'alba l'alba scontro diretto mi sembra successivo tagli davanti al nove ma come va buona vai qui ma guardiamo giugno dobbiamo guardi penne dai convinciti il pacco ma non sappiamo l'ho fatto non sappiamo l'ho fatto Grazie a tutti. 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 Spendiamo belle parole per il papà di Landucci che ci ha preso le patatine. Grazie a tutti. 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 a tutti. si. Capallo di cose, porco di Dio Entra che riesce al chubi Entra che leo adesso Sono proprio gentile, proprio dinamico, numero uno Tutte le volte Davvero? L'altra volta mi avrei sofferto Una Coca-Cola e un baccato di Pasadena Mega gentile Cambio, change, change, change Leo? No, Leo va a fare il pozzino adesso Ande Chiari Oh, dai Chiari, faccio un gol Adesso i zettini Stiamo sereni Voglio i tiri? Ma fa mega schifo Sa di paglia Sa quasi più di paglia della sigaretta Ma le sigaretta a te non piacciono? Eh? Certo E non te le fumo Smesso Lo passo anche con le canne Eh? Lo passo anche con le canne Sì, davvero Una fuma da un mesetto Un mesetto? Un mesetto Spera che tua madre non vede nè Ciao mamma Buon de go Ma vai, ma guarda Io ancora patitino C'è lunga ma ne due Adesso che ti fanno No, ma in tutte le tue Ma Mi fanno più gare A me non piace Spera ma Neanche a me fanno più gare Però Fumissimo Vabbè, io vado a svuotare Non più Ma lascialo qua Opa, bella Ok Vado Tattellina Bravo Luca Bravo Luca Luca sei il numero uno Il campo del Emo fai gol diretto Emo Ma Ma come è grosso E dai non sai chi non è il colpone? No Anzi Chi va? È un Di quel primo È un C'è da quel che so Si scrive come una scala C'è un caglianissimo C'è un caglianissimo È un magotano Non l'hai vista? Ah figo Carina Adesso la faccio vedere Oh figa Apenso la citorea No, non mi piace, non le brebbrone da troia, non mi piace, secondo me è normale, adesso è stima anch'io, si, così, da impegnare, sai che cazzo devo fare, ma il pazzo c'è la cipa? Cambio di una sera, beh anche tu devi un po' di tempo fare con questo pazzo, poi non devi arrumare, devi tutto, fighi spate e muori, campi bui, adesso sono felicemente fidanzato, meno male, sono tutto dietro, sono male, ci hai sperato per quanto? Tre mesi? Ah beh dai, pensavi sei meglio, pensiamo sei a me, dopo quel capodanno, no non era quel capodanno, quando eravate in montagna quest'estate, se vedi questo video figa potevi farlo prima, poteva darla prima, se vede questo lì, bravo Luca, bravo Luca, un'altra stringa e vai fuori cotto, ma sei un criminale, ma sei un pazzo, ma sei B, dovrebbero assumerci a Sky, dovrebbero assumerci a Sky, è qua dietro, dopo andiamo a fare il commento per cosa, per Cagliari, no non l'ho toccato, ma non l'ho toccato, ma coglioni la palla va a girare un po' a essere rossa dietro, uno dei criteri è la direzione, a parte che non l'ho toccato, di base non l'ho toccato, ma se c'ho le cazzo di maniche putte di forno, che bello, posso toccare me in Chiotto, ma per che basta carne, che costano tanto, perché fanno male, si, fanno più male, fanno più male, fanno più male, fanno più male, fanno più sì, s Bo, come ho detto GIZ? inФ mano,ändetto, ma con loro un guligo, uno ogni due giorni, oax, no? a volte mi giuro anche un po' le seconda posting, sai meglio? quello senza che voi? beh? beh, sono venti, tante, a volte mi stai aggiungendo y steal forno al classico, ma tu cosa tu prendi letter Geme? Menta forte Tutti quelli Ma mica le volevano togliere dal mercato? E le tolgono? Spero di no Menta normale Vabbè zios quando sanno che le tolgono Ti fanno un po' di mento Dai 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 Hai imparato da Riccardo Rosso questo calcio le punizioni Qua risparte Luca Menza Prendiamo l'esterno solidi Ma anche l'altro Stecco spessore Stecco spessore basso Se invece no Oggi Dai GAU Con la menti va impediato Oggi per la prima volta Oggi la metto Oggi la metto Vai GAU Mi ha detto mentre In svirgola Della fascia di sinistra nuova L'espinta L'espinta pesante Figa Mi riesci a pesare con le mani Prendiamo 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 Come cazzo ha fatto a tirarla fuori? Era più facile tirarla dentro che fuori Ecco, tipo questa era la più vicinanza Sì, ma io ero più esterno Cioè, lui non era guitarra Grazie Cioè, è vero Era ritardissimo Eh, è meglio il figlio Oh, ma direttore, che cazzo stai guardando? Sette simbolazioni Nove Intascate Oh, stai buono, due No, no, no Ieri il 18 faceva un po' il fenomeno che mette le mani a collo Madonna Madonna Oh, ho volato per te Bravo Che cazzo vai Bello, chiudi là Ma perché? Ma un po' c'è la ponte Dai, Valda Ma ci sta scalando Solido, sì Solido Solido Si abbia sto problema che non si attacca mai Allora Oh, no Attacca il tuo palo Vai, se le tira una manota per te Bello, sto Bello Stai buono Sembra No Bedi lo bianco la sera che ti fa male l'occhio Cosa c'è? Bevi lo bianco il vino alla sera che il rosso ti fa male C'è, il vino bianco cambiasse il rosso Ieri te lo sei bevuto in una bottiglia Ma io ti ho bevuto in un vino, ti ho buttato con un filo Ma è a casa con i tuoi? Sì Ah, ok Eh, te ne ho in depressione Ma sanno che bevi? Eh Ma sanno anche delle carne Sì Chi è che ti ha detto? Non trovati filtri Eh, vabbè, ma non è che Hanno pensato subito alle carne Sì E la domanda è Come facevano sapere che quei filtri lì erano per le carne? Eh, il folle Il folle non so Sa cosa faceva da giù a me? Non voglio sapere Prima di aprire l'assicurazione Ma l'assicurazione è di tuo pa o di tuo nonno? Non so È sopra la mamma Sì Infatti quando non dormo mai non poco guardo la balassi di un giubbetto sopra Davvero? Sì Prendo le chiavi dell'ufficio, lascio il giubbettino in sopra Se i tuoi due lo lasciano sopra Sì Ma se vuoi non vuoi? Sì Ti risparmi 3 euro Beh, 3 euro solidi, risparmi a tutte le volte Se sei andato 10 volte è già 30 euro almeno Qualità? Che è rimasto nel merda? Sì Più Oh my god Ecco Davide si è scantato Pistola Siamo a 20, ma con 25, secondo tempo non passo più Secondo te è il secondo più lungo, secondo me è più corto invece Ma dipende Dai A chi è arrivato? Dai Questa sufferenza è molto più lunga secondo me Bravo Sebi Bravo Questa è la zona Eh? Eh Forse è bene No, devi togliere lo sto giubbotto, lo devi togliere Tre Uno va a questo va a questo questi qua sono forti bene quanto fai? bello, solido mi ha già fatto un bel paio di chiese scimano, scimano do di cazzo ma anche vola, vola, vola vedi Ehi. Filippo, questo è il football, eh? Oh, oh! Oh, bello cammino. Ok, tengo un po' io. Oh, no. Forza Robo, dai. Forza Robo, dai. Vittor. Vittor. Bella. Bella. Occhio, non devo saltare. Troppo. 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 Fala girare. Fala girare. Fala girare. Ma la fanno girare. Beh, no. Sì, è forte. Sì. Dici. E se faccio vedere il bisogno? Sì. 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 Faccia un tiro forte. Due. È il massimo. Sì, dai, che moto. Sì, dai, che moto. Sì, dai, che moto. Staccare. Sì, dai, che moto. Fai tre. Bravo, Luca. Bravo, Luca. Bravo, 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 bravo. Rilancione? Sì, sì, con la mano. Ah, invece è un partito che... C'è Luca che va. Ah, c'è Luca che cazzo... Bello. Sì. Sì. Vai cazzo, vai cazzo! Sì. Sì. Vai cazzo! Sì. Ma che fallo, eh? Ma ma ultra, un po' di fidato. Quanto già l'hai preso? E mi sta già un ruote. Sì, vada. Facor torna Zaccagna e ha comunicato tempo delle cose. Eh, capisci. Insomma è Zaccagna, quest'anno non fa niente. Infatti non l'ho preso. Eh. Non prendere mai i pupeli dell'anno primo, poi non rendono. Ega, Carlo ha su questo paghi del... Vabè, ma se è caldo c'è il capellino. Eh? Bello, bello! Ma che piede! Ma lo scappo ieri sera? No, tu sei andato. Mi ha invitato? Ma sareste andato? Al Pugion ti spaccava gli dritti. Fì che ero pronti a prendere una ciocca che è colanderosa. E' merito triste. Vabbè, tu mi tira su. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Non fare carino... Casino! Non fare carino! Carino! Vai, vai, vai! Sule! Ciao! Pugcake! Per tantissimo! Buon fine... C'è che mi ora ti può er COS. C'è la foto. E' serbacchia di serbaccia. Dai, dai, dai! A foto, foto ma... Suntare il caffè. Eh? Pericoloso eh? Bravo ya! Bravo hahaha! Bravo! Bravo! ma è arrivato insoletto solido sei fatto di pasta prosa bravo Mau ma perchè sta gente in tappo esotico? è Yann vabbè tra poco esce Landu c'è un poco tanto esotico tra poco tanto esotico ah no, chi è che vai a mezzo al campo? a Leo Landu ti dico ma io andavo a fare si ma tanto tra poco entri a Davide al posto di Leo no, speriamo che entri al posto di Andri e Leo ritorna a fare le tessere si chiara 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 dai ragazzi dai dai si chiara si chiara si chiara tu sei dai è rava la raba battle tra poco secondo me entri al posto fa una bella difesa a 3 solida o sennò cambia io ma mi sa che già c'era il tss secondo te in questo momento è un po' più alto No, no, no. Con Leo in campo, che scambio. Io queste cose non lo capisco, ma sbate la parola. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma sto ciò, gli dimenticati, gran crispi, ecco. Anzi, sai che mi prendo il McChicken? Sì, così esatto. Se non prendi quella 10.50 te l'acquisto. E qua pensiamo alle cose serie di questa partita. Beh, c'è l'azzurro. Ah, vabbè, adesso basta. Tanto sbaglio. Vai, vai, prestare! No, che cazzo fa, che è andato dritto. No, non è il baleo. No, la donna, Leo, quanto è forte. Dai, mano! Luca se lo vuole. Dai, Max! Dai, dai! Dai, cacao, su! Amore, c'è il freddo. Aiuto! No, non è il freddo. Giusto. Giusto. F***, come è elegante. Bè, sì, sì. Bellissimo. Ho sentito al trentesimo. Solido, solida difense per me. Oddio. Sì. La difense tra l'arrivo. Dai Ale, dai! Giorno, non vedo un progetto. Sì, no. No, sì. È partito il paese. Guarda le 10. Guarda le 10. Bravo, bravo! Bravo! Ma dove vai? Si vada. Si vada. Bravo, Alda. Alda, calcio d'angolo. Spagna! Tecnica per il Dazzi. Lasciam! 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 Cosa? grazie aiuto puttana puttana bux si è rivestito un indice di freddo vai gao qui in fondo caosan niente lui se non va sul sinistro non è contento e ma nel cielo e ma ce l'ha del botto freddo si ma che piega si bravo su chi è che sta tenendo va il fenomeno va il fenomeno va il fenomeno va il fenomeno c'è c'è saba wWER il Uovi in mare! Un problema infortunato, è già rialzato. Respira, ma in cima. Ehi, eh sì, ha preso... Direttore è incazzato. Allora, respirare. Ehi, la porta che va la cacchiamo dentro. C'era un'altra terra. Stiappoli. Calcio, 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 calcio. A bordo, a bordo. Luca! Sì! 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 Grazie a tutti! Oh, ho l'esigenza, sulla tazza! Buon anno di me! Buon anno di me! Buon anno di me! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, arbitro! Sofferenza? Sofferenza? 10 minuti di sofferenza? No, sicuramente che è un nome. Sofferenza? 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 positionsi. Solo solo. Porta sta palla, Sergio. Porta sta palla. Bella. Portala, portala. Gioca alcce due contro uno. Gioca al... Ma cazzo guaglia. Aiuta, aiuta! Aiuta! E' da solo. E' da solo. Bravo! bravo, dai andiamo a saltare, dai Emma, ma Sebi ma che cazzo fai lì, ma vai a saltare, ma non la prende neanche con le mani Sebi, Sebi vai a saltare, ma non la prende neanche con le mani, meglio un po', eh, starebbe goloso, tipo con l'esterno là, no, non ce l'ha, noi sono piattoni, secco, a giro, lo tira anche secco, prima l'ha tirato bene, ora, di collo pieno, si ma hai tolto dei claga, hai scavato, non lo voglio, mi sa, non c'è, 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 ma vai a guarda, ma vai a guarda, ma vai a guarda, ma vai a guarda che prima è giù il fine di tutto, non c'è, 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 parliamo di tutto, non c'è, 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 Io entro io a fare il terzo di spinta. C'è lo scambio, Yannè? Dai, andiamo, dai, sediamo. 10 minuti, buongiorno. 7 minuti, buongiorno. 10 minuti, buongiorno. 10 minuti, buongiorno. 10 minuti, buongiorno. 10 minuti, buongiorno. Salta. 10 minuti, buongiorno. Nostra, no, direttore, al contrario. 10 minuti, buongiorno. 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 Cosa è successo? È vero, è vero, è tutto vero. È vero, è vero, è vero. È vero, è vero. È vero, 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 è vero. È vero, è vero. È vero. È vero.